Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove ci sono ancora code a tratti per lavori tra Navacchio Visignano e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Il traffico invece scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. Si ricorda che per lavori è chiuso il tratto al chilometro zero della strada provinciale 224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno della FIPILI, per una frana avvenuta al chilometro 79-865 proprio della FIPILI. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!